Photoshop & Photography, una serata con il videoblogger Emanuele Brilli dedicata alla fotografia e alla post-produzione al Photoclub Photozoom di Aghezzo. Siamo alla sede di Photozoom per questa serata, che dovrebbe essere interessante perché con tutti i follower che hai, che sono interessati al tuo prodotto, chiamiamolo così, abbiamo anche qui una platea di interessati fotografi che hanno voglia di imparare qualcosa da Photoshop. Non solo da Photoshop ma anche su ritratto, stasera parleremo di ritratto anche, quindi cerchiamo di accoppiare bene sia la fotografia, lato tecnica, lato anche scelte personali perché porterò la mia esperienza personale, con anche l'utilizzo di Photoshop, non solo di Photoshop, vedremo anche altre cosette insieme e spero possa interessare perché come dicevi te, insomma, c'è tanta gente. Poi ho saputo, c'ho una vocina che mi ha detto che proprio per il ritratto c'è un qualcosa che ha inventato. Sì, un pannellino di foto, poi ne parleremo. Un pannellino di Photoshop che sarà pronto a breve, che sarà disponibile. Allora, è già pronto, è già pronto, però è giustamente un lavoro sempre continuo, di sviluppo continuo. Infatti a marzo uscirà un'ulteriore versione che implementerà nuove funzionalità e non solo, perché nell'avvenire ci saranno tante altre funzionalità, a partire dal ritocco, passando per i mood che si possono dare a una fotografia, arrivando poi all'esportazione e tante altre cose che vedremo anche dopo. Bene, quindi questo pannellino per lisciare un po' la pelle, la pelle per fare questi ritratti nel migliore del mondo. Iniziamo la serata, diamo via alle danze. Grazie.